Musica Che tempo che farà, titoliamo per la puntata di Viceversa di questa sera, ovviamente mi sto riferendo alle condizioni meteorologiche e climatiche che sono cambiate in questa giornata, proprio oggi è tornata dopo un sacco di tempo la pioggia, ne parliamo questa sera con il nostro ospite che è un super esperto di meteo, in tanti lo conosceranno, magari dal web e adesso lo possono vedere anche De Visu, come si dice che è Antonino Renda, buonasera Tonino. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, è un piacere per me essere qua. Il piacere è reciproco, adesso fino a tanti che ti leggono sul blog che si chiama, aiutami, Meteo Nin, giusto? Sì, il mio nickname è Meteo Nin, ma è il blog di Tonino, o Meteo di Tonino. Molto conosciuto, adesso ti possono dare anche un volto, insomma, anche se tu metti le faccine sul blog. Senti una cosa Tonino, oggi è iniziato a piovere, quindi ogni meteoropatico che si rispetti, come è stato scritto, avrà pensato, che noia, no? È tornata la pioggia, non mi è bastato un mese e mezzo di sole circa. Quando finirà di piovere? Adesso tu ci dici se ha senso questa mia domanda e se c'è una risposta anche. Allora, la domanda che hai posto tu, fin quando continuerà a piovere, diciamo che non è una domanda mal posta. In quanto si può rispondere fino a un certo numero di giorni con una certa attendibilità, ovviamente dopo i 4-5 giorni l'attendibilità tende a diminuire, in quanto per il caos dell'atmosfera è anche abbastanza inutile guardare troppo in avanti. Per quanto posso dire, questa settimana sarà l'insegna delle correnti atlantiche. Cosa vuol dire? Per le persone, assolutamente, per gli ati in materia significa che avremo ancora a che fare con nuvole, cieli ancora nuvolosi quindi, umidità molto alta, quindi ancora la presenza di foschie e di nebbie, e anche la pioggia che dopo tanti giorni è riuscita a tenerci, è tornata a farci compagnia e quindi in un inverno così secco fino a questo momento riusciamo a rivedere, diciamo, il buon vecchio clima udinese, quello fatto appunto di umidità e anche di pioggia, che se a qualcuno magari come te può dar fastidio, a tanta altra gente invece fa piacere come agli agricoltori che, diciamo, ne avevano assolutamente bisogno. Quindi ci voleva, ci voleva un po' di pioggia. Ci voleva proprio. Tu quando scrivi sul blog fai sempre una distinzione, non c'è bel tempo o mal tempo o cattivo tempo, almeno fino a un certo punto, ma ci sono diversi tempi, diversi climi, no? Ogni clima, ogni tempo ha i suoi pregi e i suoi difetti. Giusto? Certamente. Essendo un amante in toto della materia, della meteorologia, di questa scienza, per me è sempre bel tempo, partendo dal presupposto che appunto poi ci sono dei periodi molto monotoni come quello che abbiamo avuto, che possono portare a delle serie difficoltà, in quanto la siccità porta veramente a grossi problemi. E quindi bel tempo può anche essere per gli agricoltori la pioggia, come in questo caso, che torna a cadere, quindi anche i millimetri che potranno cadere a bagnare i nostri campi e le nostre falde, quindi riempire le nostre falde nei prossimi giorni, questa cosa sarà molto utile non solo per gli agricoltori, ma anche per tutte le persone che ne avevano bisogno e ne sentivano la mancanza. Certo, certo. Da fine novembre aveva piovuto soltanto in quell'unico episodio tra il 12 e il 13 gennaio e quindi, diciamo, la situazione stava diventando critica. Tu hai anche uno storico, no? Di come sono state le varie stagioni, sei molto in forma, un database pazzesco e oggi stavamo discutendo così, prendendo un caffè al bar, mi impressionava anche i riferimenti alle date, quel giorno è successo, tutto citato a memoria, senza, come si dire, device, senza supporti, perché col tablet, col telefono, col pc è facile, no? Tu invece hai proprio in testa tutto quanto. Quello che stiamo vivendo, no? Tu hai fatto riferimento al classico inverno udinese. È così atipico, no? Adesso siamo tornati nelle condizioni dell'inverno udinese, no? Prima in che condizioni eravamo? Beh, diciamo che in realtà la stagione invernale, per quanto rappresenti delle anomalie, in quanto la nostra regione sappiamo che non è una regione molto secca, che gode di un clima molto secco, però la stagione invernale da noi è quella senz'altro, rispetto alle altre stagioni, specialmente rispetto all'estate e all'autunno, la stagione che presenta un clima mediamente più secco. Quindi ci sono, sì, delle anomalie, quindi abbiamo avuto il dicembre più secco del 1920, abbiamo anche avuto un gennaio molto secco, che ha avuto nell'unico episodio, tra il 12 e il 13 gennaio, anche una nevicata con fino a quote molto basse. Ma questo non significa che questa cosa rappresenti... L'avevi prevista quella nevicata? Assolutamente sì, per fortuna dico. Per fortuna, perché c'erano dei dubbi, no? Ti ricordi che nevicava nell'Interland e non è nevicata in città? Diciamo che nella mia previsione avevo proprio citato la possibile trasformazione della pioggia in neve, a causa della diminuzione della temperatura a tutte le quote, e quindi i fiocchi sarebbero potuti cadere, secondo quanto avevo previsto qualche giorno prima, fino al suolo. Quindi, partendo da una fase iniziale di pioggia, si sarebbe potuti arrivare ad una fase con nevicate, che poi si sono rappresentate come, fortunatamente, e dico mi è andata bene... Dici, ti sei salvato la vegetazione. Sì, mi sono salvato bene, direi. Però in tanti altri casi hai avuto ragione. Certamente, certamente, ed è una fortuna, voglio dire, in quanto le precipitazioni nevose più abbondanti si sono avute proprio tra la bassa pianura e la costa. Infatti, da Palmanova a Grado e Lignano hanno avuto anche accumuli tra i 5 e i 10 cm di neve, che per il nostro clima non è poco. Quindi, per tutti coloro che dicono che quest'inverno sia una stagione molto secca, troppo secca, o soprattutto eccezionalmente secca, e l'unico riferimento da fare è quello del dicembre dell'anno scorso, cioè quello del dicembre 2016, che veramente è stato un mese molto anomalo, molto anomalo perché? Perché abbiamo avuto... Aiutaci a recuperare, perché dopo io non ho grande memoria a lungo termine. Certamente, ma non è difficile, in quanto abbiamo avuto 0,0 mm, nulla totale, nessuna precipitazione, e neanche accumuli da nebbia, umidità, sempre cielo azzurro, cielo sereno, 31 giorni su 31. Minime, molto basse. A me sembrava incredibile questo dicembre qua, invece quello dell'anno passato è stato addirittura meglio. No, allora il dicembre... Me o meglio? No, no, dicembre 2016. Questo dicembre appena passato, sì, è stato così. Quello precedente non è stato molto diverso, in quanto abbiamo avuto invece di 0 mm, un solo millimetro di pioggia. Quindi diciamo che la tendenza negli ultimi anni è stata quella di avere un dicembre molto secco. Per fare due numeri, giusto per far capire ai tre spettatori, cosa significa che cada 1 mm, 0 mm, diciamo che in un mese, nel mese di dicembre, normalmente in penura, accadono dai 100 ai 120-130 mm di pioggia. Questo è un po' lo storico della zona. E' lo storico, le medie climatiche, diciamo, dell'ultimo trentennio, cinquantennio, ci dicono questo. E quindi è una quantità di pioggia irrisoria, quella di 1 mm. Quest'anno è accaduto quello che era accaduto ben 96 anni fa, quindi nel 1920. Quindi si tratta veramente di un fatto eccezionale in sé. Poi tra l'altro, se ricordi, verso il periodo natalizio, il 23 dicembre sono state toccate delle temperature in regione fino a 18-20 gradi nella zona di La Tisana. Temperature queste... Qua quante ce n'erano una dozzina, tipo, no? Come, scusa? Qua quante ce n'erano una dozzina? Qui ce n'erano, no, 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 no. Eravamo arrivati a 18 a Udine. Anche a Udine? Quel giorno lì siamo arrivati a 18 gradi nella zona di Udine fino a 19 in periferia. Mentre a sud di Udine, una ventina, trentina di chilometri a sud, addirittura abbiamo toccato i 20 gradi, valore mai raggiunto da quando abbiamo gli archivi storici, quindi nessun valore del genere. Tant'è vero che i record precedenti... Fino a quando vanno indietro gli archivi storici? Al 1780-1800, possiamo dire, quindi 200-300 anni, e non abbiamo nessun valore simile. Diciamo, gli unici valori, diciamo, vicini a questi erano di un centinaio di anni fa intorno ai 16-17 gradi. Quindi è un record battuto e anche in maniera molto decisa, quindi di 3-4 gradi sopra un record e non è poco. E con i tempi che corrono di riscaldamento globale sappiamo che è comunque un dato da tenere in considerazione. Quindi, diciamo, queste le anomalie principali di questo inverno. Passando a gennaio, vi sto facendo le cose con ordine... Adesso siamo tornati un po' più nella ordinarietà, diciamo, nella media storica. Certo, siamo tornati nell'ordinarietà, anche se comunque gennaio è un mese che è stato abbastanza secco rispetto alla media. Infatti con i millimetri caduti oggi arriveremo a una quarantina. Siamo già a fine gennaio adesso realizzati. A fine gennaio, infatti sì, ma voglio tornare un attimo prima giusto perché così specifico un attimo quello che è accaduto a gennaio. Sì, 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 preciso. Sono tantissimi e sono sempre col dito o il fucile puntato. Ah, questo sempre. Vediamo cosa dice. Mi vengono a dire, ma se non dici questo... No. Giusto per essere preciso. Sì, sì, preciso. Che non ci sia nessuno che rinfaccia nulla a fine puntata. Infatti, così. Parlavamo di eccezionalità di questo inverno o meno. Sì, dicembre è stato così. Sì, il dicembre più secco dal 1920. Arrivando a gennaio poi troviamo questo mese di gennaio che apparentemente è chiuso senza grandi emozioni. Ma bisogna sottolineare il fatto che questo, alla fine, in fin dei conti e con i numeri alla mano, sarà il mese di gennaio più freddo dal 1985. Quello storico gennaio che molti si ricorderanno per la grande nevicata tra il 13 e il 15 gennaio. Tre giorni di nevicata in interrotta che portarono anche a 40-50 centimetri fino a Udine, fino in centro, fino all'estrema periferia della città. Quindi con accumuli anche più grandi, poco a nord della città. Quindi ricordiamoci che questo è stato un mese molto freddo. Infatti le temperature medie sono state di circa 2-3 gradi al di sotto delle medie del periodo che non è poco appunto sempre in tempi di riscaldamento globale. Tanti parlano, tanti vogliono dimenticare questa cosa qua, ma questo gennaio a parte le poche emozioni è stato un mese molto freddo soprattutto grazie alle correnti artiche che hanno portato però anche gli episodi spiacevoli nell'Italia centrale e centro-meridionale di cui tutti noi sappiamo. Altro caso eclatante che ho scoperto con te oggi discutendo di meteo sempre che si è verificata io te l'ho raccontato perché mi è capitato in giardino nella siepe è stata avvolta un tronco della siepe avvolta dal ghiaccio e ti ho detto è possibile che fosse Galaverna e ti ho detto sì è Galaverna non è abituale da noi perché mi pare sia più frequente in pianura padana però c'è stato totalmente tanto freddo che si è verificato questo fattore questo episodio. Assolutamente perché la Galaverna è un fenomeno abbastanza tipico nella nostra regione in quanto avendo sempre uno scambio di masse d'aria tra la costa e la montagna abbiamo sempre dei venti che tendono ad impedire un accumulo di umidità esagerato anche perché c'è poco spazio fra montagna e mare infatti ed essendoci poco spazio abbiamo questo scambio di correnti che appunto impedisce l'accumulo soprattutto dell'umidità perché la Galaverna non è soltanto un fenomeno legato alle temperature sotto zero ma al binomio al connubio tra temperature sotto zero e umidità molto alta quindi di solito è un fenomeno che troviamo dal Veneto verso la Lombardia e il Piemonte dove si può avere questo ristagno di sostanze anche inquinanti assieme all'alto tasso di umidità e quindi questo fenomeno che avvolge questa sorta di brina che avvolge tutto e tutti tutta la vegetazione che fa anche un effetto a modo di neve chimica perché sembra a tutti gli effetti come se fosse caduta della neve quindi è questa la particolarità di questo fenomeno del fenomeno inusuale dalle nostre parti se ricordate l'anno scorso un paio di anni fa nella zona delle Farcadizze sopra Faedis nei dintorni di Canebola ci fu un fenomeno molto diffuso di Galaverna che portò tra l'altro anche alla morte di parecchie piante che vennero colpite da questo fenomeno atmosferico era bello da vedere ma una situazione molto difficile per la vegetazione purtroppo nelle aree carsiche e nella Slovenia è un fenomeno molto più frequente molto più frequente molto più frequente si danno i fece notizia assolutamente proprio per la rarità in quanto abbiamo avuto circa episodi tra Galaverna anche gelicidio che è un altro episodio che è accaduto c'è un po' di confusione tra Galaverna e gelicidio gelicidio è quando la pioggia la precipitazione nevosa non può arrivare fino al suolo perché c'è uno strato di aria calda a un certo punto fai conto sulla nostra testa a un'altezza di circa 600-700 metri a basso quindi che rialza la temperatura il fiocco diventa pioggia quindi diventa pioggia perché trova uno strato più caldo a quella quota tornando giù quindi il fiocco tende a scendere verso il suolo ma ormai la goccia d'acqua che è diventata goccia d'acqua da fiocco scendendo da quello strato mite trova il terreno nei bassi strati molto freddo e quindi l'aria fa sì che quella goccia di pioggia si congeli e abbiamo l'effetto del gelicidio della pioggia che gela che abbiamo avuto anche qualche giorno fa il 12 gennaio l'abbiamo avuto anche in città quindi che porta dei lastroni di ghiaccio molto pericolosi e a situazioni veramente rischiose specialmente per la circolazione dei veicoli non essendo abituati e in Slovenia anche questo è frequentissimo un fenomeno frequente hai fatto riferimento a quella che colpevolmente mi pare di aver capito tanti media descrivono come emergenza in Abruzzo emergenza neve dico non per la questione ovviamente legata al terremoto è ovvio che le zone sono state colpite e messe a dura prova per questa serie di eventi però quello che voglio dire o che ho capito dai discorsi che abbiamo fatto di te è che non è una cosa così inusuale non è così straordinaria come fenomeno atmosferico o sbaglio assolutamente è così nel senso che purtroppo l'italiano medio oppure i mass media poche volte cercano di spiegare alle persone il clima delle varie zone in Italia e quindi rimaniamo molto chiusi e fermi sembrava incredibile a tanti che nevicasse in Abruzzo assolutamente sembrava incredibile che nevicasse in Abruzzo così come sembrava incredibile per molte persone che nevicasse nell'Italia meridionale oppure nell'Appennino meridionale tra Basilicata Molise ma devo dire a tutte le persone che ci ascoltano e quindi tutti i telespettatori che non è una cosa assolutamente inusuale e che addirittura nelle zone appenniniche dell'Appennino centro-meridionale specialmente in Abruzzo nevica molto di più che nelle Alpi nella stagione invernale proprio grazie al fatto della loro orografia e della loro disposizione certo d'altronde ricevono correnti fredde dall'Artico Artico continentale specialmente quando arrivano dalla Russia e ricevendo ricavando una maggiore umidità dall'Adriatico riescono a scagliarsi scontrarsi contro le montagne e lì con la condensazione troviamo dei fenomeni veramente notevoli e nevicate anche di 2-3 metri in 24 ore non inusuali in quanto già in passato diverse volte abbiamo avuto nevicate di queste entità addirittura in alcune annate come tra il 2001-2002 quindi tra il dicembre 2001 e il febbraio-marzo del 2002 ma anche nel gennaio del 2005 in queste stesse zone abbiamo avuto delle nevicate anche superiori così come senza andare troppo lontano nel febbraio 2012 in molti si ricorderanno quella settimana gelida a inizio mese del febbraio 2012 nella quale nevicò veramente tantissimo da Bologna in giù mentre noi in quel periodo siamo rimasti a guardare le webcam che ci circondavano a rosicare per chi apprezza la neve infatti c'è chi rosicava e c'è il tempo stesso chi era sereno e infatti si è ritenuto decisamente fortunato in alcune città come a Urbino sono caduti oltre 3-4 metri di neve anche in città come Forlì nelle quali comunque nevica ma abbiamo avuto non è così inusuale che nevichi così come a Bologna ma abbiamo avuto accumuli superiori a metro un metro e mezzo in meno di una settimana anche nella stessa Cesena a due passi dal mare abbiamo avuto accumuli notevoli quindi il fatto che nevichi in quelle zone assolutamente non è inusuale e conosciamo delle località come quella del Molise e la nostra Capracotta che a 1.400 metri in Appennino riesce ad avere una quantità di neve tripla quadrupla rispetto a quella alpina a località la stessa altitudine o più alte nelle Alpi assolutamente e al di sotto del lussari del nostro lussari del nostro Zoncolan quindi a 1.400 metri Capracotta ma anche in passato ha avuto nevicate fino a 10-15 metri nella stagione invernale addirittura ha un picco superiore ai 18-19 metri di accumulo stagionale e se noi consideriamo che nel mese di novembre e nel mese di dicembre in queste zone dell'Abruzzo ahimè col problema del terremoto anche non hanno avuto alcuna precipitazione nevosa in realtà è questa la vera eccezionalità che abbiamo avuto qual è l'anomalia di questo periodo in Abruzzo chiariamo questo aspetto infatti è questa è stata l'anomalia l'anomalia attuale è stata diciamo la persistenza di correnti artico-continentali quindi provenienti dai Balcani provenienti dalla Russia che ha fatto sì che invece di avere i canonici 3-4 giorni di nevicate in queste zone poi con delle pause fisiologiche invece abbiano avuto delle nevicate anche di 7-10 giorni con continui accumuli di neve che ovviamente sommandosi e lì non voglio mettermi ai disagi tra traffico e circolazione e al fatto che magari mancassero anche dei mezzi utili a disposizione questa cosa ha portato sì che tutta questa situazione venisse a crearsi questa è stata diciamo l'anomalia in quelle zone che è unita purtroppo agli eventi tragici del terremoto non hanno fatto sicuramente bene a quel territorio creando tantissimi disagi e producendo quello che di cui abbiamo avuto notizia in questi giorni mi piacerebbe che noi sconfessassimo ancora un paio di falsimiti del meteo di cose che si dicono un po' in maniera dozzinale anche mi ci metto dentro come giornalista diciamo ogni tanto semplifichiamo un po' troppo che cosa c'è da sconfessare anche in questi termini Antonino cioè cosa diciamo noi in maniera troppo approssimativa in questo caso parliamo di emergenza tutto diventa emergenza lì è so che un po' ti dà fastidio sì c'è la tendenza all'enfatizzazione all'esesperazione e all'esagerazione in molti casi specialmente nel caso nei vari siti di internet su internet per attirare i click evidentemente vuoi per ignoranza nella materia vuoi per attirare dei click molti siti sono portati a enfatizzare qualsiasi evento quindi come emergenza portando sempre come titoli sia quello dell'emergenza che quello dell'eccezionalità quindi praticamente tutto diventa eccezionale ad ogni ondata di freddo nella quale si scende anche a meno due meno tre diventa ondata di freddo eccezionale gelo record e queste giustamente la gente che la quale non ha alcuna colpa perché ascolta e legge e guarda queste notizie ascolta queste notizie si trova a ricevere queste notizie e a farle proprie ovviamente quindi diventano anche dei luoghi comuni quindi tutto diventa eccezionale il caldo in estate diventa eccezionale ma anche il freddo in estate diventa eccezionale quindi quando abbiamo giornate sotto i 30 gradi tutti a gridare in estate nella stessa estate o che freddo o che freddo quando secondo la nostra climatologia dovremmo quasi sempre viaggiare al di sotto dei 30 gradi quindi la gente ormai si è abituata a giornate estive e oltre i 30 l'eccezione è diventata quasi la regola nel senso che ormai temperature di 35 gradi che una volta si registravano con una cadenza trentennale ah sì? sì una volta si registravano con cadenza di 20-30 anni temperature sopra i 35 gradi ormai sono la norma quindi la gente probabilmente pensa anche di vivere un po' i tropici e quindi si si sentono dei commenti allora quando la temperatura rimane sui 30 gradi come se facesse freddo per la nostra regione e assolutamente sia i nostri vecchi che le persone che hanno voglio dire un minimo di conoscenza del nostro clima sanno benissimo che una volta fino agli anni 90 era veramente un'eccezione andare sopra ad esempio i 30 gradi e che il temporale visto adesso come fenomeno incredibile era il nostro compagno ordinario dell'estate di ogni nostro tardo pomeriggio prima serata anche perché tu mi insegni o mi hai insegnato oggi che l'estate è la stagione tradizionalmente più piovosa per noi sì per la nostra tra l'altra l'alta pianura e la nostra zona montana è senz'altro la stagione più piovosa nella nostra regione assieme ovviamente all'autunno anche se chiaramente in modalità diverse in quanto in estate abbiamo dei fenomeni che durano molto di meno ma che riescono a scatenarsi in breve tempo e a garantirci degli accumuli di pioggia straordinari anche in breve tempo quindi un temporale mediamente può scaricare fino a 50 100 mm di pioggia così come le nostre piogge autunnali in 20-30 giorni possono portarci più o meno lo stesso accumulo quindi è una questione di intensità dei fenomeni e soprattutto del lavoro che svolge il sole quello di portare a una formazione di nubi temporalesche quindi il calore aiuta la formazione dei temporali e quindi il fenomeno della grandine che molti credono sia un fenomeno invernale o tardo-autunnale quindi sinonimo di freddo in realtà è un fenomeno anche questo mito è un mito da sconfessare è un fenomeno prettamente estivo tardo-primaverile estivo dovuto proprio ai forti contrasti e al fatto delle basse temperature in quote della potenza di queste nubi temporalesche in grado di portare il chicco fino al suolo certo grazie un'altra cosa interessante che testimonia un po' la difficoltà di fare delle previsioni precise è diciamo sono i diversi fenomeni climatici anche in giro o nel raggio di pochi chilometri cioè tipo a Udine centro può piovere e all'Aipacco può esserci il sole spieghiamo un po' che questa cosa certo con questo argomento vorrei appunto porre l'attenzione e parlare e fare riferimento ad alcuni siti che suppongono di poter chiaramente fare previsioni orarie così come previsioni su diverse località non facciamo nomi ma sono molto conosciuti sono siti nazionali sono siti nazionali che chiaramente fanno credere alla gente di poter fare questo ma quello che voglio dire io questo non si può fare non si può fare anche perché è sotto gli occhi di tutto di tutti come giustamente ben detto che specialmente nella stagione estiva molto dinamica e con questi temporali di calore che si sviluppano proprio per l'eccessivo riscaldamento durante la giornata quindi temperature che magari arrivano fino a 30 33 34 gradi e questi temporali di calore che si scatenano in maniera molto localizzata quindi magari interessano una località oppure addirittura un quartiere nella stessa città di Udine magari nella zona nord nord est dove sono più frequenti e magari nella zona di Santo Svaldo non si è vista neanche una nuvola oppure si sono solo avvertiti dei tuoni e non è caduta una goccia d'acqua quindi si possono avere dei fenomeni molto localizzati anche a carattere di nubifragio quindi delle precipitazioni molto intense localizzate quindi una persona ovviamente non può pensare che si possono fare previsioni su tutta la città oppure su tutta una regione senza fare le dovute considerazioni soprattutto specialmente in caso di questi fenomeni che non sono organizzati e appunto interessano magari una via e non quella limitrofa quindi troviamo delle enormi differenze a distanza anche di poche centinaia addirittura poche decine di metri quindi è questa la cosa che molte persone magari alle quali molte persone non hanno fatto caso durante magari questa stagione quindi il messaggio se qualcuno vi dice che vi fa delle previsioni orarie soprattutto in estate come fanno diversi siti per guadagnare consenso ovviamente visualizzazioni pubblicità eccetera sono frottole sono palle questo lo possiamo dire purtroppo questa cosa è garantita con certezza certezza al cento per cento purtroppo dico per questi siti però però insomma noi i nostri telespettatori li abbiamo avvisati assolutamente quindi la tutela la tutela ce l'hanno avuta per coloro che non se ne fossero già accorti perché penso che molti se ne saranno già accorti molti sono appassionati di meteo e se ne saranno già accorti sembra di no ma tante persone sì sì è un argomento che appassiona tantissimo proprio per questa passione domani come sapranno i tanti tuoi seguaci i tuoi follower del blog tu farai le previsioni a due o tre giorni e la proiezione per il fine settimana possiamo già anticipare qualcosa se uno ha pensato sabato di fare una getta fuori porta la può fare può fare il picnico o no raccontiamo diamo un paio di poi devono leggerti sul blog assolutamente allora diamo un paio di dritte come ho detto prima e per essere coerente con quanto ho detto prima continuerà questa fase atlantica come ho detto dimenticatevi un po' il sole per tutta la settimana umidità sempre molto alta quindi uno fino a domenica se la deve mettere via almeno fino a domenica se la deve mettere via questo non significherà che pioverà dalla mattina alla sera ok in quanto ci saranno delle pause quindi delle alternanze di momenti senza precipitazioni perché si tratta di una serie di fronti che arriveranno in regione quindi dei sistemi nuvolosi che arriveranno a fasi alterne e con delle precipitazioni diciamo che stando all'analisi di oggi i momenti più critici tra virgolette più critici in quanto non si non si tratterà certamente di nubifragio di precipitazioni incredibili comunque ci saranno delle precipitazioni che potranno essere moderate o a tratti abbondanti specialmente nella seconda parte di giovedì ma anche nel corso del fine settimana in quanto soprattutto tra la fine di sabato e la prima parte di domenica potrebbe passare una saccatura atlantica quindi un fronte atlantica con dell'aria un pochettino più fredda e portare delle abbondanti nevicate in montagna al di sopra diciamo che comunque sia non avremo nevicate a quote molto basse perché comunque c'è dell'aria molto umide e mite che precede questi fronti quindi le stazioni scistiche se la devono mettere via se la devono mettere via a meno che non siano comunque a quote superiori a 1300-1400 metri lì comunque sia cadranno assolutamente lì ci sarà garanzia di nevicate nel senso che cadranno comunque diversi centimetri nelle nostre stazioni scistiche più in quota su questo per fortuna non ci saranno problemi comunque sia anche il fine settimana dovrebbe essere ovviamente non è una previsione certa al 100% in quanto oggi è martedì e mancano diversi giorni ci possono essere delle modifiche ma stando alla circolazione attuale è difficile che ci siano dei grandi cambiamenti l'inerzia è quella più o meno l'inerzia è quella ed è molto probabile che ci siano ancora delle precipitazioni alternata dalle fasi senza pioggia ma comunque con delle fasi più critiche verso la fine di giovedì probabilmente appunto anche la seconda parte di venerdì e tra la fine di sabato e domenica quelle dovrebbero essere le fasi più critiche con il target dei maggiori fenomeni in regione le zone più interessate saranno sempre quelle canoniche con delle correnti da sud sud ovest quali sono quelle canoniche? quelle canoniche sono la zona del Canin quindi tutta la zona delle prealpi giulie che riceve con queste con queste correnti con quantitativi maggiori di pioggia e di neve in quota quindi su Monte Canin e mi aspetto veramente delle grosse nevicate al di sopra dei 1800 2000 metri quindi chi vuole schiare a Sella Nevea è copertissimo sì oggi ad esempio sta nevicando infatti a Sella Nevea ma diciamo che in quota è ancora più coperto in quanto nevicherà parecchio sopra i 1700 1700 metri in quella zona lì quindi anche perché lì è una zona famosa per le nevicate grazie appunto a questo tipo di correnti Tonino spettacolare io andrei avanti fino alle 10 di sera però abbiamo degli orari che dobbiamo rispettare senti grazie e speriamo di sentirci ancora perché è stato molto interessante sei stato lineare perfetto grazie ancora Tonino grazie a te grazie a tutti e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito appuntamento domani sempre alla stessa ora con Viceversa buonasera a tutti grazie a tutti